Industria alimentare italiana con i suoi primati in qualità, sicurezza e sostenibilità coniugata con la tecnologia Made in Italy. Cibus Tech alla Fiera di Parma festeggia 80 anni con un'edizione da Record. Antonio Boschi. La tecnologia si evolve, è sempre più legata alla sostenibilità ambientale. È il messaggio che parte dagli stand di Cibus Tech di Parma, il salone internazionale dedicato alla pericchiatura nel settore del food and beverage. E così le priorità accanto al controllo della qualità degli elementi sono la riduzione delle emissioni e degli sprechi. Anche le imprese alimentari vogliono, grazie alla tecnologia, essere sempre più attente a questa necessità dell'economia ma anche del pianeta. Si parte dagli imballaggi, da sempre una delle prime cause di inquinamento, che però ora rispettano l'ambiente. È un packaging ad alte caratteristiche di barriera, quindi elevata food preservation e integralmente compostabile. E nella fabbrica intelligente e sostenibile si fa anche l'attacca ai prodotti per ottimizzare la produzione e ridurre gli sprechi. Un pane che ha troppe bolle, non viene destinato al mercato in quanto pane in cassetta ma può essere riutilizzato. Ma nel futuro c'è la realtà aumentata che oltre a rivoluzionare il rapporto prodotto-cliente trova applicazione anche nella manutenzione a distanza. Minori viaggi, maggiore attenzione, minori sprechi nella progettazione e di conseguenza beneficio per quanto riguarda l'ambiente in generale.